La cittadella della ricerca come punto di riferimento per il distretto tecnologico aerospaziale con il lancio del progetto ESA BIC Brindisi presentato alla presenza dei massimi esponenti a partire dal presidente del distretto tecnologico aerospaziale Giuseppe Acerno e delle autorità locali un importante investimento sui giovani e per il futuro con il territorio pugliese e brindisino che si conferma di grande attrazione e di riferimento per questo settore nazionale. Lavorato negli anni per consolidare un insieme di soggetti e anche di entità che potessero contribuire a questo percorso di crescita sia nella dimensione pubblica che privata. Oggi per esempio siamo dinanzi a un altro appuntamento l'Agenzia Spaziale Europea viene in Italia nel mezzogiorno, qui a Brindisi siamo riusciti a vincere questa gara e quindi abbiamo la fortuna di poter gestire questa iniziativa che porterà valore non solo finanziario ed economico per le start-up che verranno sostenute ma anche servizi specialistici nell'auspicio che ciò contribuisca ad ampliare la base delle imprese che operano nell'aerospazio in Puglia. La presenza di Brindisi prima nell'aeronautica e oggi nell'aerospazio è un fatto storico e strutturale di questa città quindi è l'evoluzione naturale delle cose che ci porta oggi a inaugurare questa iniziativa che speriamo rappresenti un punto di riferimento fondamentale per le nuove generazioni che intendono giocare la partita dell'innovazione tecnologica. Grazie a tutti.